La comunicazione non va insegnata a una facoltà e basta. La comunicazione dovrebbe essere insegnata a tutti, a tutti, ad ogni età. Perché la comunicazione è una materia giovane che non è mai stata insegnata. Ciao Lapo, è un piacere averti qui e ben trovato. Chi è Lapo De Carlo? Va bene, allora vediamo di sintetizzare, a me piace sempre utilizzare un termine che è liofilizzare, è un po' in questo caso la mia esistenza che è divisa in più tronconi perché di fatto nasco grafico, divento responsabile di una società di animazione e servizi turistici, inizio a lavorare in radio a 26-27 anni, intorno ai 96, quindi parecchio tempo fa, dalla radio sbarco poi anche in televisione, divento direttore di una radio nel frattempo e divento opinionista televisivo dall'altra, nel frattempo maturo negli anni, già a partire da quando avevo 15-16 anni, una certa capacità con il microfono perché di fatto facendo animazione per 11 anni nei villaggi Valtur, Club Med e appunto nei villaggi che gestiamo noi, succede che prendendo il microfono in mano maturo una capacità che diviene quasi naturale perché poi col microfono mi trovo ad avere diciamo più esperienze perché comunque inizio a fare non solo spettacoli o cabaret, come per esempio per tre anni, ma andando anche a fare degli eventi, quindi dove diventa il rappresentatore, le fiere, i meeting, i congressi, il moderatore, qualunque tipo di situazione che prevedesse anche la presenza con il microfono e anche senza microfono perché il microfono è un elemento che di fatto trasferisce il concetto di public speaking ma di fatto ci sono moltissime situazioni in cui questo non c'è. Uno di queste è per esempio la scuola dove per esempio mi sono trovato a insegnare psicologia del turismo, ebbene sì, in una scuola a Milano al Bistolfi e che praticamente ha visto la mia prima lezione davanti un gruppo di ragazzi che non avevano neanche molti anni meno di me, avevano avuto cinque anni meno di me, quindi neanche tanti, e mi trovavo a insegnare. E devo dire che è stata una cosa anche interessante perché non esisteva diciamo un versante psicologico sul turismo in un'epoca in cui la materia del turismo era ancora tutto sommato lontana. Da quello ho maturato anche un certo piacere nell'insegnare e una mia amica nel 2005, che tra l'altro è docente della facoltà di psicologia all'Università di Cocca, mi ha chiamato e mi ha detto senti guarda ho bisogno di un esperto, un esperto che venga a parlare davanti agli studenti di quello che è il parlare in pubblico, e quindi il public speaking, perché lei mi conosceva da tanto tempo, so che tu ti esprimi, parli, fai, mi piacerebbe la tua esperienza. Benissimo, detto fatto, è andata talmente bene quell'esperienza che da lì, da ogni anno è aumentato il lavoro, per cui l'anno dopo due aule, l'anno dopo ancora tre, il primo anno, poi il terzo anno, per il quinto anno, poi dopo, dico di quelli che venivano a vedere, quindi ragazzi che dai 19 anni siamo arrivati a 25-26 anche dopo la laurea, fino a quando in questi ultimi 15 anni, io non avendo fatto l'università, sono diventato un prestatore d'opera, quindi un collaboratore dell'Università di Cocca, in cui ho maturato un tipo diversante che era quello non solo di insegnare il public speaking, cioè dove tenere le mani, dove metti gli occhi, cioè tutte cose manualistiche e prontuario. Ma ho maturato la consapevolezza da interprete di questo tipo di, se vogliamo chiamare la disciplina, perché quella è una disciplina interculturale il public speaking. Essendo una comunicazione una materia che prende da più elementi, non può essere soltanto un manuale del tipo si te stesso, si leader di te stesso, le 10 regole per vendere meglio, le 5 regole per essere disinvolti davanti a una donna o cose del genere, perché spesso la comunicazione in questi ultimi 30 anni, anzi senza spesso, quasi sempre, è stata venduta in due modi, o accademico, quindi estremamente tecnico, tutta una serie di geometrie, di triangoli, rovi, rettangoli che si mischiano. La roba è complicatissima, ma la comunicazione è anche altro. Certo, i meccanismi psicologici sono anche interessanti e vanno anche spiegati in questo modo, ma dall'altra parte venivano venduti a modi marketing. Cioè, come ti diamo il manuale per essere migliore, ma non è un manuale, è cultura. Ed è molto più lungo di una procedura fatta in 5-6 regole. Perciò in questi 15 anni ho maturato questa consapevolezza e l'università mi ha dato la possibilità di esercitare, sperimentare, capire, sbagliare, rifare e andare a esplorare nuovi tipi di frontiere comunicative che non erano soltanto quelle del fate così, guardate le slide, adesso andate a pagina 32, non è così. E negli ultimi 7 anni ho iniziato a disegnare anche nelle aziende. E mi fermo sulla parte comunicativa perché se partivo con la radio e la televisione... E questo era solo un di chi sei. Scusa, hai ragione. Non è facile, ma mi rendo conto che facendo tante cose... No, beh, è bellissimo, è bellissimo invece questo tuo fuoco che hai perché lo trasmetti. E poi è anche bello l'associazione della Facoltà di Psicologia e Public Speaking, che io mi sarei immaginata invece che tu facessi delle lezioni alla Facoltà di Marketing, per esempio, o di economia. Invece mi piace molto questa cosa. In realtà i ragazzi che vengono da me sono di comunicazione interculturale, l'ultimo caso è stato ieri. I ragazzi che vengono a fare questo tipo di corsi, ieri c'erano 75 ragazzi collegati perché adesso sto, anche io, facendo questa esperienza di insegnare da casa. Quindi così come adesso io di fatto sono di fronte allo schermo, praticamente avevo già fatto esperienza perché quando lavoro in radio io vado in diretta con davanti uno schermo che ritrae la mia immagine e con un microfono che ho qui vicino a me e quindi mi dà la possibilità di parlare con la voce anche un po' più profonda oppure un po' più metallica, quindi essendo uno strumento di lavoro lo posso usare bene e contemporaneamente mi dà la possibilità anche di verificare quello che capiscono o che comprendono mentre io parlo senza che possa vedere le loro facce. Per cui anche per me, sai, insegnare Public Speaking senza vedere a chi io ho speaking, cioè francamente, diventa senza mani, senza piedi, però ce la faccio. E devo dire che questa esperienza è notevole e in questi giorni abbiamo iniziato a fare questo discorso ma non solo con quelli che fanno comunicazione interculturale ma gente che fa anche il formatore o che viene da altre discipline, per esempio economiche. Cioè la comunicazione non va insegnata a una facoltà e basta. La comunicazione dovrebbe essere insegnata a tutti, a tutti ad ogni età perché la comunicazione è una materia giovane che non è mai stata insegnata. È una materia che viene insegnata in una piccola porzione, in una facoltà ben specifica, ben precisa, da pochi anni. Si sa ancora poco, non si sa abbastanza. In fatto i primi studi sono sviluppati negli anni 70, hanno avuto i loro cantori, i loro miti e hanno dei personaggi che hanno portato avanti un tipo di cultura della comunicazione più legata ad ottenere qualcosa attraverso la comunicazione perché viene insegnata da tanti anni perché si è scoperto nel mondo attuale che la comunicazione può vendere, può aiutare a vendere. Non è stato insegnato per amore, tanto più che si impara molto di più da altri, e cioè da una scienza evoluzionista, antropologica, da materie da cui si può attingere per poter fare in modo di capire bene per quale motivo una persona parla, si esprime, dice delle cose, pensa delle cose, va in difficoltà per delle altre e ha un potenziale per delle altre ancora. L'essere umano, di fatto, non ha mai insegnato l'essere umano. Quindi ci insegnano l'educazione, che è uno dei principi tipo stai composto a tavola, non mettere le mani in bocca, di ciao al Signore, ma questo è educazione. Ma parlo di comunicazione e parlo di cultura degli altri. Noi impariamo ad avere cultura per le regole, per la disciplina e cultura di noi stessi. Non abbiamo la cultura degli altri. Mancando la cultura degli altri non ci accorgiamo, non capiamo gli altri. Per noi c'è un analfabetismo cognitivo che dipende anche dal fatto che magari uno dice ciao e l'altro dice in che senso? Ho detto ciao. E ma ciao in che modo? Perché l'altro coglie sempre o percepisce sempre una realtà distorta, che è quella della propria essenza. Perciò noi vediamo il mondo per ciò che siamo, invece di vederlo per ciò che è. E questo dipende naturalmente anche da aspetti comunicativi, ma insegnati prima. Cosa significa per te comunicare bene? Oppure comunicare in modo corretto? In parte tu hai già dato una risposta prima, perché comunicare, lo dico spesso ai ragazzi, perché se trovano una risposta su Wikipedia trovano un modo per poter arrivare da una, trasmettere un messaggio da una parte all'altra, ma così sei una macchina, sei un'automa. Comunicare è di fatto avere a cuore il fatto che gli altri ascoltino, capiscano, che quello che tu devi dire arrivi. Perciò spesso la gente fa un errore di fondo e lo fa nel 99,9%, per cui è un errore, potrei quasi dire che questo è un piccolo segreto della comunicazione o del public speaking quando lo dico ai ragazzi che vengono da me o alle persone che vengono da me. Tutti si preoccupano di dove metterlo le mani o dove guardare o cosa fare, della propria inadeguatezza. Comunicare è esattamente l'opposto, cioè non cominciare a fare attenzione alla propria inadeguatezza, perché se stai guardando la tua inadeguatezza o quelli che potrebbero essere dei problemi perché non ti ricordi bene una cosa, un concetto o altro, significa che tu non hai a cuore gli altri, hai a cuore te stesso. Ti preoccupi di non fare brutta figura, ti preoccupi di non essere all'altezza della stazione, ma la realtà vera è che se tu sei un comunicatore, hai a cuore che gli altri semplicemente capiscono quello che vuoi dire. Non hai nemmeno quasi bisogno di utilizzare slide, frasi fatte, frasi scritte, eccetera, eccetera. Io ogni giorno faccio delle lezioni che sono, neanche lezioni, diciamo delle chiacchierate se vogliamo, perché ogni volta cambiano. E se tu sei una persona di un certo tipo, con un'età, con un percorso, con una storia, una cultura, una professione, io non posso parlarti come se fossi un'altra. Devo tenerne conto. Per cui comunicare significa anche sapere con chi parli e a chi diffondi un tipo di messaggio, se è quello che devi dire. Ma il messaggio non è il messaggio, è la tua cultura. Comunicare significa cercare di mediare la tua cultura con quella degli altri. Significa cercare di arrivare a conoscere gli altri, avere interesse e rispetto. E quindi non essere mai esclamativi, al massimo sospensivi in quello che si dice. Per cui vedono un sacco di persone che hanno una personalità molto forte e impongono la loro personalità, impongono il loro modo di essere, ma non riescono a essere comunicativi. Nonostante la gente dica però è bravo, è forte, non te, perché è uno che sa parlare. Saper parlare non vuol dire essere comunicativi. Sapere esprimersi non vuol dire essere comunicativi. Essere comunicativi è arrivare agli altri anche stando in silenzio, anche con uno sguardo, con la presenza, con l'atto di la comprensione. Arrivare agli altri è un elemento culturale ed è proprio perché manca la cultura degli altri. Il resto è marketing, è manipolazione. Spesso ci vendono dei prodotti da Google al supermercato attraverso una manipolazione comunicativa, cioè intercettano i nostri bisogni, sanno cosa ci piace e cosa non ci piace, sistemano negli scaffali o in Google ci propone un tipo di prodotto perché l'abbiamo consultato due giorni prima e pensiamo che strano, avevo pensato proprio guarda quel prodotto due giorni fa e magicamente appare. No, è che loro di fatto comunicano in questo modo, ma questo è manipolazione. Lo stesso modo è anche nel public speaking. ci sono persone che sanno esprimersi con delle parole chiave perché conoscono la psicologia della folla che è un altro elemento perché la folla ha una sua psicologia. La massa, la collettività ha un fondamento che parte dal presupposto che è diversa. Una persona da sola ragiona in un modo, in massa ragiona in un altro e questo, chi si occupa di questa materia lo sa molto bene. La manipolazione la pratichiamo tutti più o meno inconsapevolmente. La facciamo perché naturalmente viene fatta a fin di bene o viene fatta anche semplicemente per motivi fisiologici e animali. Se io esco con una ragazza e voglio piacerle, non è che mi metto la tuta, non mi resto con i boxer ed esco con le ciabatte, mi metto la camicia, i pantaloni, quella che piace a me. Se una ragazza esce con un ragazzo, magari poi si mette quella gonna che sa che le sta molto bene, cerca di sedurlo e di essere anche intrigante, si trucca. Quindi già questo è una forma di seduzione. Seduzione vuol dire manipolazione perché tu stai dando una fase promozionale di te stesso e cerchi di manipolare una realtà che in realtà è diversa da quello che teoricamente è la quotidianità. Perciò la manipolazione dipende come arriva. Naturalmente se questa viene fatta scientemente per ottenere degli scopi supponiamo politici, è chiaro che tutto questo ha un altro tipo di fondamento e perciò diventa qualcosa di perverso. Ma se io mangio tutti i giorni la Nutella, la Nutella è buona ma se la mangio tutti i giorni diventa una cosa terribile. La manipolazione avviene sistematicamente e avviene tutti i giorni purtroppo con un grado di inconsapevolezza delle persone. L'altro elemento della manipolazione dipende dal fatto che la gente non comunica con se stessa. Se io non comunico con me stesso significa che io non parlo con me quindi non so che gusti ho o quantomeno mi disinteresso. Non mi ricordo più neanche che musica ascolto. Quello che c'è alla radio c'è. Cosa ascolti? Ma un po' di tutto. Cosa ti piace? Ma un po' di tutto. Magari ti piace una sola cosa e guardi sempre quella all'infinito e più guardi quell'unica cosa e meno ti conosci. Perciò il non conoscersi implica che tu sei manipolabile perché evidentemente arriva qualcuno che ha una cultura più grande della tua conosce meglio te di quanto tu conosci a te stesso e perciò sa quello che può farti fare. La gente ne è inconsapevole ma è esattamente il mare di un'umanità che non si conosce tanto più che l'umanità non è mai stata come in questa epoca così numerosa ed è così istintuale primitiva primordiale e immatura. Noi abbiamo e lo vediamo adesso con il covid da 19 che abbiamo scoperto che non esistono leadership e non esistono di fatto personaggi che possano guidarci fuori e non abbiamo un'umanità matura abbiamo un'umanità polemica litigiosa cattiva incattivita immatura per l'appunto inacidita perciò perciò questo significa che non parla non comunica con se stessa c'è troppa rabbia dopo e non dipende solo dal fatto che hai perso il lavoro perché c'era anche prima e questo è una inconsapevolezza ed è il motivo fondante per cui la manipolazione pubblicitaria politica sociale avviene sistematicamente senza che la gente ne sia consapevole la cultura è una cosa che uno può farsi anche da sé e quel grado di spontaneità da una parte è unita anche alla consapevolezza rende una persona intelligente io non amo molto il giustificazionismo credo che sia molto più importante che la gente sappia attingere dalle proprie risorse parlandosi perché altrimenti diventa una forma di pigrizia mentale e non me l'ha detto nessuno e nessuno me l'ha insegnato e ma come facevo a saperlo è perché io ho fatto un corso di public speaking forse no nessuno purtroppo c'era all'epoca ho fatto un corso di comunicazione no nessuno me l'ha fatto l'ho imparato grazie certamente anche a un approccio e un modo di poter anche perché ho avuto un tipo di vita oggettivamente anomala tutto sommato rispetto ad altri più varia più vasta più povera anche perché purtroppo non faccio un lavoro che mi permetta di arrivare a una certa cifra al mese ma sono tutti lavori e tutti mi dicono che bei lavori che fai è vero sono belli infatti è una ricchezza straordinaria e soltanto da qualche anno in qua mi rendo conto di questa ricchezza che prima invece prendevo e adesso riesco a distribuire in un modo molto più uniforme e mi piace ma questo grado di consapevolezza viene da una serie di esperienze anche da una serie di diciamo anche di esercizi a cui mi sono sottoposto di errori che continuo a fare perché continuo a sbagliare sbagliare non vuol dire che faccio cadere un piatto vuol dire che ogni tanto sperimento faccio delle cose che magari non avrei fatto prima è come uno che mangia delle cose che non gli piacciono perché vuole capire se non gli piacciono ancora se io non mangiavo le melanzane a 12 anni non vuol dire che non mi piacciono a 19 o a 25 perché il corpo cambia e quindi anche la propria comunicazione il sistema di pensiero il metro di misura che si avversa le cose il grado relazionale il piano comunicativo cambia il registro verbale questa è una cosa su cui batto molto con i miei studenti il maggior numero di parole a disposizione che si può imparare perché non è ma io sono ignorante cosa vuol dire anche io allora tutti lo siamo si impara una parola al giorno una e la si introduce nel proprio vocabolario si impara a vedere il mondo anche attraverso un numero di parole perché un maggior numero di parole ti permette di poter vedere il mondo attraverso una dimensione molto più ampia e quindi entrando in una stanza molto più grande questo ti permette di avere una visione e una costruzione del mondo un'architettura stessa che ti permette di comunicare molto più facilmente ma se tu hai quel modo quell'angolazione non a caso la gente quando parla dice ma cosa sta dicendo non è vero perché io quando c'è un argomento che spesso viene posto dice no la gente non sa parlarsi non sa confrontarsi perché dice parla sempre della propria angolazione e dice non è vero non è vero quello che dici tu perché? è perché non è vero perché io è perché tu per cui la tua angolazione quindi c'è un assolutismo e quindi non manca l'assertività si chiama assertività cioè la capacità di confrontare la propria idea con gli altri senza imporla cioè la gente litiga e su cosa litiga su tutto? faccio un esempio banale la politica perché? perché siano idee diverse sì è un elemento ma poi perché manca un lessico frequentato tutti i giorni se uno parla di politica una volta al mese o una volta all'anno non si ricorda qualche termine non si ricorda che è quel ministro non sa bene le cose le ha lette si è fatto un'idea ha capito il fondamento ma non sa argomentare bene perché non si ricorda bene le cose arriva qualcuno che la sa argomentare meglio continua a pensarla diversamente ma è frustrato perciò è un esempio questo ma più parole conosci e più riesci a capire alcuni meccanismi e soprattutto riesci a capire come la pensi veramente anche tu cito l'altro l'ultimo esempio di questo versante se vedi un film in televisione e dici ti è piaciuto quel film e spesso mi dicono oh sì bello ok hai visto due ore un film sei stato chiuso al buio hai visto il film dimmi qualcosa no bello una storia perché mi piace l'attore no poi la storia è importante perché vuol dire che ha un significato profondo ma questo non è spiegare poi se parli con un amico non dici una cosa del genere tu di fatto se vedi un film hai tutta una serie di altri elementi che magari introduci ma non sai spiegarli perché anche il cinema ha un suo lessico ha una sua ha delle parole chiave e se vuoi parlare che ne so di montaggio clippato di un PPP cioè un primissimo piano e di un piano sequenza puoi spiegare meglio le cose se spieghi che c'è uno sviluppo narrativo che parte da un presupposto bla 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 lo spieghi meglio un film allora hai bisogno di incamerare le cose ma la gente non ha tempo e non avendo tempo si giustifica dicevo cioè i miei figli ho il lavoro non riescono anche a lavare i piatti la sera a momenti e quindi non avendo tempo questo rende l'uomo appiattito cioè cresce fino a una certa età supponiamo 20 anni dopodiché la sua cultura la sua vocazione viene sospesa vita naturale durante perché il tempo di disposizione per crescere non c'è più e l'uomo si ferma e rimane eternamente adolescenziale in molti aspetti della sua esistenza la lettura infatti aiuta molto sì ma la gente non legge in Italia io parlo dell'Italia che conosco meglio ma ho parenti tedeschi e parlano più lingue e mi rendo conto della differenza io ho imparato per esempio a comunicare attraverso mio zio ho uno zio che si chiama zio Furio e anche mio padre Adriano De Carlo i quali hanno un approccio totalmente diverso sono direttamente all'antitesi perché da una parte il mio padre che è un grande oratore un grande parlatore ha fatto tanti anni radio televisione un regista un comunicatore nella misura in cui è un parlatore più che un comunicatore e Furio al contrario è un dubitatore io mi ricordo che andando da lui in Germania da Monaco gli spiegavo le cose come andavano io mi ricordo che parcheggiavo la macchina arrivavo lì seduti al tavolo a cena lo facciamo tuttora quando vado da lui con la famiglia e parliamo di qualunque argomento e lui mi ha invitato a capire dicendo ok ma tu dici questa cosa ma per te spiegamela meglio allora io dovevo sempre spiegare le cose che gli dicevo lui esagerava esasperava il concetto del dubito dell'essere un porta forze quindi dubitare tutto quello che magari veniva detto perché poi lui stesso mi vendeva delle certezze lui è uno che ha studiato storia è uno storico e quindi evidentemente molte cose che venivano dette le metteva chiaramente in discussione però mi ha aiutato da una parte da una parte uno aveva un assolutista e dall'altra un dubitatore queste due realtà queste due culture ti permettono di capire che le cose che dici hanno sempre bisogno di altre angolazioni e la lettura ti permette di avere un'altra angolazione ma in Italia la gente non legge non legge anche per vocazione perché essendo il nostro è un paese mediterraneo noi abbiamo una cultura della visione dell'immagine tanto più che in Italia va molto più come social Instagram perché è un tipo di social edonista e quindi basato anche sull'immagine sull'impatto sul narcisismo e questo va bene anche per Facebook Twitter che già comunque è un tipo di social che non amo particolarmente anzi per niente ma che comunque quasi è un necessario però è fatto di informazione di notizie di lanci ma la gente non legge essendo un paese questo che non legge gli articoli ma legge i titoli non lo dico con tono polemico certo dispiaciuto evidentemente è un paese che confonde il Lercio.it con il Corriere della Sera ho visto gente che litigava ma non due o tre ho visto centinaia di persone accapigliarsi sotto il Lercio.it su una notizia palesemente falsa che dove che ne so un maiale vola e lancia dei soldi la gente si accapiglia per prendere i soldi hai visto i maiali e tu dici ma non è possibile eppure la gente lo fa quindi vuol dire che anche questo è ipocognitività cioè la mancanza di cognizione analfabetismo cognitivo e vedere ormai le cose in un modo sempre più ristretto e dipendere da tre fattori che sono chiaramente la desuetudine alla comunicazione la mancanza totale e assoluta di fiducia negli altri nel mondo nel giornalismo e terzo un inaridimento culturale che di fatto assottiglia completamente la propria visione di insieme perciò assottigliando scegli un personaggio che pensa per te e dice per te avete tutti fatto caso a tanta gente che sui propri social posta per esempio frasi dette da altri il link la canzone la frase detta da uno che in realtà è decontestualizzata e quindi decontestualizzata perde significato o comunque ne assume un altro quindi anche loro manipolano una frase se mi lasci sai quello che lasci ma non sai quello che trovi che frase pazzesca sì è una frase banalissima da quel punto di vista utilizzata a random ma è una frase che non usa cioè uno può scrivere una cosa del genere anche da solo partorendola da sé ma si appoggia agli altri quindi non pensa più la gente non pensando più sente intuisce perché ho detto prima diventiamo più intuitivi sentiamo in televisione ascoltiamo la radio vediamo qualcuno sentiamo da qualche parte qualcuno che ha detto qualcosa allora la prendiamo in prestito la troviamo su google cerchiamo disperatamente la infiocchettiamo bene bene in questi cornici che ti mettono e la metti lì dicendo la penso anch'io così e sotto vedi i commenti è proprio vero ha proprio ragione e poi c'è scritto la vita è bella anch'io ti amo i cagnolini i gattini e le cose questo l'uomo è molto più di questo è molto più ricco solo che attualmente c'è un inaridimento e una sospensione del pensiero come se la gente non volesse più pensare delega agli altri il pensiero al massimo fa una cosa che fanno tutti si sfoga la gente parla ormai con cognizione di sfogo se andiamo a vedere sui social l'85% delle cose che vengono espresse sui social sono sfoghi e secondo te siamo alla deriva o c'è possibilità di di recuperare se non ci fosse possibilità non insegnerei non avrei questa presunzione perché di fatto insegnare è un atto di presunzione come scrivere scrivere è un atto di presunzione ma è una presunzione che talvolta è necessaria ci sono dei mestieri che sono inevitabilmente collegati anche a una forma di arroganza di presunzione e di cui ti prendi anche delle responsabilità io mi sono preso del presuntuoso un paio di volte l'annia vita magari anche giustamente perché non te ne rendi conto ma credo che se non ci fosse io quando ho visto dei ragazzi che sono utili da me o che hanno semplicemente seguito i miei corsi perché all'università dovevano seguirli per forza io devo dire che mi ha inorgoglito vederli a distanza di due anni e ripetere alcune cose che avevo detto ha visto il professore ho seguito il suo consiglio ho detto la cosa che mi ha più colpito e che mi ha dato ancora più convinzione ed entusiasmo è vedere che alcune delle cose che ho detto sono state messe in pratica da persone di 50-60 anni con una formazione personale culturale ormai già definita e con soprattutto la possibilità di poter fare un lavoro che gli dava già comunque una soddisfazione economica notevole ho insegnato comunicazione a gente che guadagnava 12-15 mila euro al mese e che ha già una sua famiglia e nonostante questo si è scoperto che loro non avevano abbastanza elementi su di sé non erano consapevoli di alcune cose che li riguardavano perché non avevano mai pensato certe cose e non avendo mai pensato hanno rivisto alcuni aspetti del loro carattere e anche della loro crescita professionale in meglio perché quello che fa la comunicazione è insegnare e dare degli strumenti in più poi sei tu che sei in grado di integrarli di fatto spesso mi piace usare la metafora della palestra comunicativa quando uno va in palestra vuole avere i muscoli non è che tu vai fai tre sedute e hai i muscoli così o hai dei pettorali pazzeschi o hai delle gambe no devi fare un anno anche due ma fatto bene seguendo tutto quello che dice più o meno vale anche per la comunicazione invece cosa succede che la gente va alla libreria e ti dicono i dieci modi per cinque regole cioè la gente vuole la scorciatoia vuole di fatto la semplificazione cioè non vuole pensare perché non ha tempo e torniamo al discorso di prima e questo produce anche un elemento che è quello del fatto che le persone hanno poche certezze quelle poche certezze se le tengono ben strette e non le vogliono assolutamente togliere perché se tu togli delle certezze le persone la propria comunicazione praticamente si distrugge tanto più che le persone hanno paura del pubblico non perché hanno paura perché il pubblico li può aggredire hanno paura del pubblico perché in realtà hanno paura di se stessa la gente quando guarda avanti un pubblico vede se stessa perché vedono magari qualcuno che sbadiglia qualcuno che non ascolta qualcuno che al contrario magari fa una faccia particolare mentre sta parlando e quindi dice oddio cosa sto facendo soprattutto poi le persone che parlano in pubblico magari sentono una goccia di sudore le mani sudate sentono che magari qualcosa non va in sé e lo amplificano ancora più di quanto non sia ma di cui gli altri magari neanche si accorgono di fatto il motivo per cui la gente per esempio non comunica al mondo è per la paura una paura ancestrale primordiale per l'appunto ma frutto del fatto che l'uomo è come dicevo prima immaturo è un adolescente ed essendo un adolescente si comporta come tale con la giacca con dei figli con un guadagno notevole al mese o meno con un'affermazione tanto più che spesso l'affermazione personale nel mondo del lavoro sostituisce quel grado di consapevolezza perché la consapevolezza di sé qualcuno non potendo trovarla in elementi che possono essere legati a aspetti culturali li sostituisce con il guadagno al mese io guadagno tot e allora c'è il principio di quasi darwiniano ma in realtà Darwin non intendeva dire questo che è quello in qualche modo che vince il più forte che nella natura vince il più forte ma Darwin non ha detto questo ha spiegato ha dato una spiegazione differente ecco ci è stato venduto anche il concetto essendo questa una giungla quindi la gente non pensando ed essendo adolescenziale si ferma davanti i grandi temi spesso dico anche ragazzi abituatevi a parlare di grandi temi abituatevi a parlare la vita non è fatta di ho visto un bel vestito costato 18 euro ma dai ma dovevo do prenderlo anche io la vita non è fatta solo di ma dai sarà mica rigore quello eh lo sapevo sei solito gioventino tu sei interista la vita è fatta di discorsi che non si affrontano mai nemmeno con gli amici più stretti anzi soprattutto con loro vita morte religione sesso politica amore sono sei macro temi che non vengono mai affrontati se si fanno no 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 dai non parliamo di politica perché se no litighiamo no no parliamo di sesso allora gli uomini parlano di sesso come se fossero in macelleria e quando lo fanno lo fanno in alcun senso di inadeguatezza molti si imbarazzano perché è sesso l'amore è una cosa sdolginata per donne non va bene la religione è una cosa sacra meglio non parlarne non sai io una cosa che rispetto molto quindi neanche della religione della morte oddio che tristezza e così via quindi non ci sono argomenti no la gente non vuole affrontarli perché ha paura ha paura di tutto o le imbarazza o ha paura e quindi non cresce mai perché se non parli di macro argomenti non sai chi sei di certo non sai chi sei parlando soltanto di tasse politica di quello lì sarà mica un presidente del consiglio e ha parlato quello dell'opposizione ma dai ma l'hai visto questo non è un modo di parlare parlare è un'altra cosa parlare e comunicare è un'altra cosa così è fare spettegolezzo ecco l'uomo oggi spettegola su tutto ma spettegola non parla non comunica non gliene frega niente dell'opinione degli altri tranne rari casi qualche raro caso c'è l'interesse della persona l'opinione della persona perché ha stima di quella persona che però non può essere onnisciente però l'interesse è la sua sensibilità e può sempre arricchirsi perché non è che sono tutti stupidi e non mica sto dicendo questo però dico adolescenziari è più importante affermare la propria personalità i propri principi le proprie idee per poter in qualche modo far cementare la propria consapevolezza è un la necessità di avere autostima se gli altri mi dicono che le mie idee sono buone vuol dire che io valgo di più se qualcuno mi dà torto significa che valgo di meno oppure sono loro anzi è colpa loro è più facile che sia colpa loro tanto più che la scusa degli ultimi anni che è entrata nel lessico civico e viene espresso dalla gente comune tutti quasi tutti fanno una sciocchezza dicono una cosa sbagliano esagerano esasperano insomma debordano e ti dicono che cosa scusa no nessuno dice più scusa nell'umanità non dice più nessuno scusa ti dicono scusa se ti sei sentito offeso chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso perché essendo adolescenziale l'uomo de-responsabilizza se stesso e demanda la necessità della responsabilità della colpa agli altri comunque è colpa vostra cioè scusa se ti sei sentito offeso vuol dire sei anche un permaloso vabbè dai scusa se ti sei sentito offeso quindi infatti non hai sbagliato tu sei tu che hai capito male e quindi tu non hai mai colpa siamo andati a parlare di comunicazione in una maniera splendida con te io infatti non ti faccio neanche più domande sul public speaking ti ringrazio tantissimo e a presto ancora su questi schermi a parlare del public speaking molto bene grazie a te grazie a tutti quanti e a prestissimo allora ciao a tutti grazie